lo saccio pietro che me ne ho palagnato paralisi però quando spigni c'è qualche però dovete sapere che stefanie è state sempre ingannata fra le loro e amore che organizzare pure il matrimonio delle pigni che succederà oh qua è meglio mettere in una porta si si sta neri però c'è creduto sa che sto incinta se lo scopre si muovetti oh ma io ho paura io mi sono un'ansia non si sa mai allora che abbiamo pure la domanda tanto se si sa prende la piccata si si guarda voglia 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 ecco ecco è questo che sto sta da mannata qua io mi mette pace se non mi riesce l'inverno mi spera speriamo bene marietta fitti inguca sono pensando pesanti da mani si pronto unico si 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 dopo eh oh mi raccomando cerchè un attimo di mettici d'accordo sulle mogli nostre per farle eh fermare sulle spese hai capito si capito no si 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 sono d'accordo sono d'accordo zitto 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 essere che prima zitto oh e che succede qua siete mettiti e boni perché a c'è un sonda ci legge tutto quello che dovevo fare eh si ma c'è il reggio moderno allora internet ha mai detto questo eccedere che lo conosco io ma del computer ignorante allora allora allo sposo chi aspetta da comprare e ne premo se ne toccano la casa l'immobile ah meno la camera da letto però prima la dieta bene lo patrascio le ferie lo viaggio no si ma un momento si si finito? no nè li fiori che porta sulle mani la sposa l'offerta per la chiesa ma mo si è finito? si e me pare si? non ho capito e la sposa che caccia no ma non sono dalle leggi e state calmo dicaci e sta a pemonia si sa si e perché che altro ci sto a cacciato? si e poi lo guardiamo subito tu non è pronto qua allora alla sposa gli aspetta da comprare la gamba da letto l'ho vestito per essa e per la vigile e con poniere i confetti lo pranzo l'ardocco per la chiesa le partecipazioni le fotografie lo filmino oh basta ah ci stai in tanto? si si ci sta lo correo lo regalo per i detti mani e la musica per la chiesa beh pure tu fa un po' di mia spede eh? eh beh! appunto eh! a mo ragioniamo tutti e quattro su quello che se vuoi scartare che vorresti scartato Nicò non vieni già subito a farmi ingazzare eh? oh state calmo state allora ecco domicendo lo vestito da sposa non si può fitta a che serve spendere i soldi per un giorno? oh corretta Nicò maniete subito quello che si ditto perchè figlio mi aveva nel vestito tuo lo più bello del paese si capito? bene non serve le partecipazioni tanto non serve a invitare le persone per iscritto ci serve le persone così si risponde subito giusto? bravo sono d'accordo eh o regno ci riemo noi altri casa a casa? ma nessuno che stava lì? e che ti posso dire? ah non d'accordo a noi altri farlo o leggeremo come dà? allora veniamo là dopo eh non ci potremo arrangiare fra noi altri? basta cogliere i tuoi fiori qua e da se metta su i vasi e sta a posto sentici una ragazzata Nicò io ho visto che parti e sommetto a dare un tanto per le seconde tanto non serve più a cosa stai in curva tranquilla sarà meglio che gli dici dici se no vabbè vabbè manca bene i flori eh mai giusti eh perchè se vede lo spreco pure da te e lascici citar il palungo il po' a te veniamo le pomponiere ma sapete niente a che servono i cingilliti? a niente di tutto c'è bene laggiù basta solo tu sa chi tu vuoi convinti e basta eh oh oh tu senza che pure sa che mi tocca pure a noi gli anni scattare le cosette lascia perdere su condendiamoci di misanchitti per favore eh eeeh dalla musica ci metto io portiamo la radio sulla chiesa non è questa quando non serve a pagare chi canta io Nicola e lei due a te lo sparco sulla testa hai capito? si accadate mezza tira anche la monaca ah certo se no per più non da fa no? vabbè eeeh le fotografie le fa paole paolesa oh correttamente cosa ha ignoranza che ti esser porta loro ha da fare i vestimoni mica si proiettano i tempi eh oh un servizio fotografico deve essere eh due e gestiamo pure noi gli altri sulle fotografie eh capirei che capolavori oh comunque non per più eh e poi le fotografie chiamano parente mio che è bravo e poi è pure poco carestoso sa si oh eh c'è finito Nicola mi pare di sì anzi ferma sta bene lo pratico però però lo vediamo dopo perchè adesso è stracca vabbè oh ma quello che mi riguarda la casa è quasi finita si il maschio di costo, le porte, le finestre si ma quello con poco prezzo si fa che c'è uno oh ma che dici guarda che pure ti è mai c'è da abitare sulla casa sa e me non ti preoccupare che c'è da abitare che c'è da abitare vado pure io a scegliere guarda che la casa sta bene a vedere pure le tiende eh e a me non le tiende non me ne prevevo più niente eh a me sì che è succeda di? li moti eh se fa l'indispensabile quale sarebbe? eh la cucina eh compremo il fornello e la crederemo e basta un cavolino se mette il seniglio per terra figli e vuole avere la cucina componibile quella che non ho avuto io ah si capito? eh però eh compremo quelli in offerta sulla televisione eh ma se quelli non vale cosa ah ma se te volete che qui tu chiude me